amici carissimi buonasera a tutti e ben ritrovati su le frequenze di questo splendido ciclo di catechesi splendide per l'oggetto ovviamente non per il relatore diciamo così che appunto ad amo e la vita nella divina volontà giunta la ventottesima puntata anche questa sera avremo dei brani davvero belli tratti dagli iscritti siamo arrivati a ventisettesimo volume quindi mano mano che si va verso il trentasesimo gli argomenti diventano sempre più forti e profondi questa sera sono veramente belli ogni volta che commento gli iscritti di luisa piccarreta dico sempre le stesse cose mi riconosco come alquanto ripetitivo insomma perché le esternazioni non possono essere che di estrema compiacenza vorrei evitare appunto proprio per questo di fare troppi preamboli introduttori e passare immediatamente alla lettura del primo brano che è dal ventisettesimo volume il 7 di ottobre del 1929 vi si legge dopo ciò stavo facendo il mio giro per seguire gli atti del fiat divino nella creazione e giunta nell'edel mi sono fermata nell'atto quando l'uomo respinse la volontà divina per fare la sua o come comprendevo bene il gran male di fare l'umana volontà ed il mio amato gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia certo che fu terribile il momento della caduta di adamo come respinse il nostro volere per fare il suo il nostro fiat stavo stava in atto di per ritirarsi dal cielo dal sole e da tutta la creazione per risolverla nel nulla perché colui che aveva respinto la nostra divina volontà non meritava più che il nostro fiat mantenesse l'atto continuo di creazione conservazione in tutta la creazione fatta per amore dell'uomo e data a lui come dono del suo creatore se non fosse stato che il verbo eterno avesse offerti i suoi meriti previsti di futuro redentore come li offrì per preservare la vergine immacolata adattata dalla colpo originale tutto sarebbe andato in rovina il cielo il sole si sarebbero ritirati nella nostra sorgente e ritirandosi la nostra divina volontà tutte le cose create avrebbero perso la vita ma presentandosi il verbo umanato innanzi alla divinità e facendo presenti i suoi meriti previsti tutte le cose stettero al loro posto ed il mio fiat continuò la sua opera creatrice e conservatrice aspettando la mia umanità per fare ad essa il dono legittimo che meritava tanto è vero che fu fatta solenne promessa all'uomo dopo la sua caduta che sarebbe sceso il futuro redentore per salvarlo affinché pregasse si disponesse a riceverlo tutto fece la nostra volontà e con giustizia aveva diritto su tutto l'uomo col fare la sua volontà umana le tolse i suoi diritti divini perciò non meritava che il sole gli desse la luce e come la luce lo investiva si sentiva strappare i diritti della sua luce ogni cosa creata che prendeva e godeva erano tanti strappi che gli faceva se non fosse per la mia umanità per l'uomo tutto sarebbe perduto perciò il non fare la divina volontà racchiude tutti i mali e perdere tutti i diritti del cielo e della terra e il farla racchiude tutti i beni acquistare tutti i diritti umani e divini allora mi avviso questo brano è bellissimo ed è sintetizzabile proprio con alcune espressioni che lui si adopera comprendevo anzitutto bene il gran male di fare l'umana volontà il non fare la mia volontà racchiude tutti i mali mentre il farla racchiude tutti i beni non farla fa perdere tutti i diritti del cielo e della terra e farla fa acquistare tutti tutti i diritti umani e divini quindi comprendiamo veramente con la la bellezza di di quello che stiamo insomma vivendo e meditando allora abbiamo adamo eden peccato originale momento terribile dice gesù terrificante cioè respinge il volere divino e gesù dice chiaramente se le cose fossero dovute andare perfettamente in conseguenza di questo atto quindi a prescindere dalla futura incarnazione del verbo sarebbe stato immediatamente la fine di tutto se non fosse stato che il verbo eterno avesse offerto i suoi meriti previsti di futuro redentore tutto sarebbe andato in rovina fare un atto di questo genere quindi un atto di disprezzo formale della divina volontà che aveva dato origine a tutto il creato significava da un punto di vista di stretta giustizia non meritare più che il fiat mantenesse l'atto continuo di creazione e conservazione in tutta la creazione attenzione a questi termini eh abbiamo già visti altre volte cioè tante volte non solo nelle catechesi sulla divina volontà ma anche in altre interventi o catechesi fatte diciamo di natura teologica ho avuto modo di spiegare che l'opera divina non si limita a creare un ente perché un ente creato ha bisogno di essere ininterrottamente conservato nell'essere dal creatore d'accordo? la conservazione nell'essere è un atto continuato anche se a noi non percepibile che Dio fa non soltanto con noi ma con tutto ciò che è appunto per continuare ininterrottamente a renderlo partecipe dell'essere che Dio stesso è se cessasse questo atto continuo di Dio di conservazione nell'essere che è un po' come per farci comprendere il nostro cuore che batte dentro di noi il cuore che batte dentro di noi per esempio io adesso che sto parlando quindi non sto neanche attento a non stiamo prima ad andare a dormire in cui almeno si sente un piccolo riverbo del battito cardiaco io adesso che il cuore sta battendo non me ne accorgo proprio ma sappiamo tutti quanti che se il cuore cessa di battere la vita immediatamente istantaneamente finisce ecco per doverci fare un'idea insomma perché purtroppo come dice San Paolo noi dobbiamo avvicinarsi alle cose spirituali prendendo come termini di riferimento perché questi purtroppo nella nostra misera abbiamo dei paragoni umani l'atto di conservazione nell'essere che Dio fa di tutte le cose è paragonabile al battito cardiaco col nostro corpo umano col corpo di un uomo col corpo anche di un di un animale insomma di un mammifero insomma di qualcuno però da cosa dipende la creazione e la conservazione nell'essere la creazione teologicamente parlando è un atto volontario di Dio e non necessario quindi è un atto totalmente dipendente dalla divina volontà che vuole e sceglie di creare semplicemente come atto di liberalità per rendere partecipi a qualcosa fuori di sé l'essere che egli stesso ha e l'amore infinito che vive e la felicità infinita di cui gode questa è la creazione se la creatura intelligente quindi quella che può conoscere e la creatura che può conoscere quindi corrispondere a quest'amore va a disprezzare formalmente quella stessa volontà capiamo tutti quanti che secondo giustizia la reazione dovrebbe essere stop è la fine tu mi hai disprezzato io ti faccio perdere tutto tutto e ti faccio addirittura perdere proprio la consistenza nell'essere cos'è che ci ha salvati fin da allora dice Gesù la futura è già prevista incarnazione del verbo sarebbe venuto colui che avrebbe riordinato e riparato per tutto il genere umano il disastro commesso da Adamo quindi pensiamo non soltanto all'importanza dell'incarnazione ma anche alla gratitudine che dobbiamo avere nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo allora l'uomo col fare la sua volontà umana le tolse i suoi diritti divini l'uomo aveva dei diritti divini e dei diritti umani allora quali sono i diritti divini? i diritti divini sono avere diritto dei diritti su Dio quindi diritto ad essere amato da Lui perché fino a quando la Divina Volontà riposa dentro di noi c'è proprio veramente un diritto di essere amati perché Dio non può non amare se stesso quindi nella misura in cui siamo perfettamente uniti con la Divina Volontà abbiamo diritto al suo amore adesso il suo amore è un suo atto di liberalità misericordiosa nei nostri confronti e lo ringraziamo abbiamo diritto a che tutte quante le creature dell'universo quindi il sole la luce stiano al nostro servizio avevamo diritto per esempio a che tutti quanti gli animali e il creato fosse a noi sottomesso ora noi sappiamo benissimo che non tutti gli animali ci sono sottomessi sappiamo benissimo che il creato delle volte prende fese si mette a fare delle cose cioè se viene un maremoto chi è che ci può fare qualcosa ma quello che succede come dire da un punto di vista ontologico se uno ci pensa adesso a prescindere da questioni di fede non di fede mettiamoci pure nei panni dell'uomo della strada cioè se viene un terremoto o se viene un maremoto o se viene un alluvione tu hai degli elementi naturali che vanno a fare dei danni a me che sono un essere umano grossi cioè compresa la morte insomma comprese le devastazioni e che ci possiamo fare noi niente cioè ci possiamo fare poco possiamo fare tante case antisismiche possiamo cercare di fare tutta la prevenzione possibile immaginabile in questo mondo ma di fatto che ci possiamo fare ora certamente una persona non credente può attribuire queste cose a fenomeni fisici che ti posso dire scherzi della natura caos caso tutto quello che gli pare no? però la rivelazione ci dice che tutto questo non è altro che la conseguenza del disastro che abbiamo fatto noi d'accordo noi abbiamo perso tutti i diritti nei confronti del creato peccando capite ecco ci abbiamo il creato che ci si è rivoltato contro questo lo dice chiaramente il libro della 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 genesi perché mentre tutti quanti gli enti creati continuano ad obbedire a dio anche se non lo sanno perché non sono intelligenti cioè a fare perfettamente ciò per cui sono stati creati noi no noi no e quindi non ci obbediscono più a noi non ci riconoscono più cioè l'uomo è stato creato da dio come signore del creato signore del creato ma la creazione non ci riconosce più come 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 suo signore perché perché non lo siamo perché siamo diventati inferiori agli esseri creati perché perché gli esseri creati non hanno non si sono ribellati alla volontà di dio noi sì in adamo e in tutti noi purtroppo ora Gesù è il grande riparatore quindi Gesù adesso capiamo no è venuto sulla terra non soltanto adesso poi vedremo un secondo scritto quando parla del doppio innesto non innesto balordo e nefasto avvenenato che ci ha causato adamo e poi innesto santo che ci ha dato nostro signore ecco quindi la vita terrena di Gesù non è stata semplicemente finalizzata ecco ecco perché negli scritti di Luisa si trova tante volte scritto e molte persone fanno difficoltà a capire no che lui ha rifatto è stato sulla terra 33 anni per rifare tutti gli atti di tutte le creature presenti passate e future dare al padre la riparazione per tutto e per tutti d'accordo di modo tale che quello che è successo se non volesse usare un'immagine è che nella persona attenzione qui del figlio di Dio fatto uomo il padre può vedere la divinità può vedere ogni essere umano presente dove ogni essere umano fa esattamente quello che avrebbe dovuto fare di buono nei confronti dell'altissima capite? è così eh? tu dici e come mai che allora gli uomini allora il problema è che Gesù è il riparatore universale d'accordo solo che io che sono uno uno dei tanti membri della razza umana che cosa devo fare perché quello che Gesù ha fatto sia efficace anche per me devo credere che Gesù è il figlio di Dio devo credere che Gesù è il salvatore devo anzitutto accogliere l'opera della sua redenzione e poi questa è la vita nella divina volontà devo cominciare a imparare a fare tutti gli atti nella divina volontà non facendo altro che andare a prendere da lui ciò che lui ha già fatto per me e viverlo questa è la vita nella perché la vita nella divina volontà è questa allora capiamo bene tutto quello che è successo qui è molto è molto chiaro è molto chiara eh abbiamo perso il diritto al paradiso facendo la nostra volontà abbiamo perso il diritto al paradiso celeste e al paradiso terrestre tutto quello che Dio dice no? penso che la Bibbia la conosciamo il capitolo terzo della della Genesi abbiamo perso il diritto a non soffrire abbiamo perso il diritto a non ammalarci abbiamo perso il diritto a non passare per la morte tutte quante cose che il Signore ci aveva dato quindi le perdite dei diritti umani e divini abbiamo perso il diritto di essere rispettati dalla creazione di vederla a noi sottomessa di vederla a noi obbediente è un disastro è tutto questo da non fare la divina volontà che è veramente ciò che racchiude tutti i mali e così come viverla e farla racchiude tutti i beni quindi questo per quanto riguarda questo primo scritto di questa sera andiamo a vedere il secondo sempre il 27esimo volume 27 ottobre 1929 così si trova e si trovava la mia divina volontà fino a tanto che l'uomo non cede la sua nella mia la mia non può gettare attenzione il suo principio di vita nella volontà umana la fusione dell'una e dell'altra non può avvenire la creatura sarà sempre creatura senza la somiglianza e la vita del suo creatore dell'anima sua che può formare solo il mio fiat divino quindi ci sarà sempre di somiglianza di stanza adonta che il mio volere divino la illumini e le comunichi i suoi mirabili effetti per sua bontà e liberalità e per effetto di potenza e di immensità che per sua natura possiede molto più che Adamo col peccare col fare la sua volontà umana non solo formò il tarlo alla radice dell'albero dell'umanità ma vi aggiunse l'innesto che innestato comunicò tutti gli umori cattivi che nel corso dei secoli doveva produrre nell'albero dell'umanità al principio l'innesto non può produrre grandi bene né grandi mali ma solo il principio del malo del bene di fatti Adamo non fece i tanti mali delle umane generazioni ma fece appena l'innesto e fu causa di torrenti di male molto più che non ebbe subito l'innesto contrario della mia venuta sulla terra ma dovessero passare secoli e secoli quindi gli umori cattivi crescevano e i mali si moltiplicavano perciò al regno della mia volontà non c'era proprio da pensarci ma quando io veni sulla terra col mio concepimento formai all'albero dell'umanità l'innesto contrario e i mali cominciarono ad arrestarsi gli umori cattivi a distruggersi a distruggersi scusate onde c'è tutta la speranza che il regno della mia divina volontà possa formarsi in mezzo alle umane generazioni anche qui possiamo dividere il commento in due punti numero uno il libro della Genesi ci dice che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio ora già i padri della Chiesa dicevano che col peccato originale l'uomo ha perso la somiglianza con Dio non l'immagine noi continuiamo ad essere immagini di Dio attenzione immagini di Dio sono tutti gli esseri umani appunto in quanto esseri umani perché appunto usciti dalle mani di Dio creati con l'anima spirituale dotati delle tre potenze spirituali che sono la memoria dell'intelletto e la volontà quindi l'immagine di Dio non può essere cancellata nell'uomo può soltanto essere deturpata ma la somiglianza si può perdere come? dove vediamo noi che alcuni esseri umani assomigliano a Dio? dove? dove è la somiglianza con Dio? la somiglianza con Dio tra l'altro per noi è manifestata attraverso la conformità piena con l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo d'accordo? e fino a tanto che l'uomo non cede la sua volontà nella mia la mia non può gettare il suo principio di vita nella volontà umana e la fusione dell'una e dell'altra non può avvenire la creatura sarà sempre creatura senza la somiglianza e la vita del suo creatore nel fondo dell'anima sola somiglianza che può formare solo il mio fiat divino attenzione qui vorrei aprire un campo di riflessione poi di attualizzazione catechetica allora chi vive nella divina volontà Gesù ci sta dicendo ricupera la somiglianza con Dio cioè gli assomiglia a Dio il santo chi è? se non lo volesse proprio andare a fare a dirlo in due parole chi è il santo? il santo è uno che assomiglia a Dio e chi è il peccatore? è uno che assomiglia al diavolo non ci vuole tanto allora io apro una piccolissima parentesi insomma che è anche un po' una condivisione in giro di somiglianze con Dio anche tra noi credenti eh non è che se ne vedono proprio tantissime e se noi non diventiamo somiglianti con Dio quindi ci fondiamo veramente con la divina volontà fondersi con la divina volontà liberarci dal volere umano ed essere fusi col volere divino che ci rende soprannaturalmente belli e attraenti come fanno le persone a a credere cioè in un contesto come quello storico in cui stiamo vivendo no? un contesto caratterizzato da dagli strasci che ormai ma nemmeno dell'ateismo adesso questa è una società post secolarizzata addirittura dove stiamo in un marasma d'accordo qual è la grande sfida? si parla tanti di si parla tanto di sfide io ci ho pensato per tanto tempo la più grande sfida oggi è che ci siano persone che tornino a mostrare la bellezza di un essere umano che recupera la somiglianza con Dio cioè che non vive più in maniera umana ma vive in maniera divina è totalmente somigliante al nostro Signore Gesù Cristo punto cioè in uno stile io recentemente in questi giorni ho girato un pochino per vari social facebook twitter mi sono trovato ho visto tante io veramente mi ha preso a un certo punto proprio un sentimento di dolore profondo di compassione anche profondo ma proprio profonda cioè nel vedere a quali bassezze e beceraggini proprio può aggiungere il pensiero e quindi la lingua umana anche se lì è digitata attraverso una tastiera attraverso l'uso malsano di questi strumenti e di tutti gli strumenti cioè fango veleno vomito insulti gettati da tutte le parti contro tutto e contro tutti di chiacchiere avvanvera travisamenti di intenzioni interpretazioni sballate cioè del tutto cioè io sono veramente dico dico ma signore mio ho detto veramente dico ma come stiamo campando e da sacerdote mi dico ma le persone che fanno questo visto vabbè quelli che vivono che che hanno scelto di vivere lontani da Dio insomma e di tacitare la la coscienza preghiamo ancora di più ma io vedo cose di questo genere diciamo così da da gente che fa professione di di fede cattolica di credenza cattolica e che a volte anche in nome della fede cattolica che vorrebbe diciamo magari di difendere o promuovere ha dei modi degli stili dei comportamenti sono assolutamente inqualificabili da un punto di vista oggettivo poi le buone intenzioni le diamo sempre a tutti io dico ma sto poro fratello sta poro sorella ma non se ne rende conto ma questa è completamente asservita alla propria umana volontà ma di brutto e magari pensa pure che quello che sta dicendo sta facendo bene quindi sta dando gloria al Signore sta rendendogli il servizio cioè cosa c'è di somigliante con Dio in un insulto cosa c'è? Dio insulta cosa c'è di somiglianza con Dio e in una critica sprezzante d'accordo? brutta cosa c'è? cioè penso che non ci voglia tanto per chi faccia diciamo così professione di di fede o di pietà chiedersi ma Gesù farebbe questa cosa? la Madonna farebbe questa cosa? boh io sono sto facendo qualche piccola parola perché mi sono veramente profondamente addolorato nel vedere tante cose no? ma di varissimi tipi insomma cioè adesso non voglio non voglio fare esempi perché mi scoccio sennò perché dopo ma cioè non ci sono motivazioni di nessun genere che possano giustificare un modo di agire in questo modo di questo tipo cioè io vedo in giro insulti di ogni specie a politici membri delle autorità civili membri delle autorità ecclesiastiche ma cioè uno può tranquillamente avere come dire un'opinione personale una riserva diciamo così può certamente non condividere un orientamento politico di un certo governo ma c'è in ogni caso un credente ha un modo ha uno stile di esprimersi no? garbato può anche muovere un rilievo una considerazione ma non può sparare in un certo modo non si può fare questo qui non si può cioè cioè l'agire divino una delle prime caratteristiche fondamentali che ha ma come dire ha una profondissima attenzione considerazione rispetto che Dio ha nei confronti della creatura di me d'accordo e potrebbe tranquillamente fare tutto tutt'altro insomma perché c'è una distanza incommensurabile tra me e lui no? ma come facciamo? ma io non sono stato chiedendo come facciamo ma come si fa poi cioè a non rendersi conto di tutto questo qui e a giustificarlo attraverso i più speciosi pretesti o o campati per altri ragionamenti ecco cioè si vede proprio in queste cose l'innesto marcio che Adamo appena fatto il peccato originale ha instillato dentro la natura umana questo innesto marcio e solo però che adesso noi che siamo vissuti grazie a Dio duemila anni dopo la redenzione ci abbiamo anche avuto duemila anni di innesto contrario dice Gesù di innesto buono se apriamo veramente le porte del cuore dell'anima Gesù gli umori cattivi cominciano a distruggersi i mali cominciano ad arrestarsi gli stili cominciano a cambiare io perdonatemi insomma se faccio riferimento a questo lo lo devo fare no cioè io questi giorni sto sto pensando con tutto il mare magnum che si legge in giro alla fine del mondo a come si possa sentire perdonatemi il santo padre francesco adesso per quanto a prescindere che cioè io dico specialmente poi noi cattolici fedeli sacerdoti insomma si dovrebbero un minimo di rispetto insomma di considerazione insomma per una figura comunque istituzionale io dico ma io dico ma sto poraccio ma come si sentirà a leggere che forse gli riferiranno in giro no io ho letto alcuni commenti questo posso dire alcuni tweet del suo canale twitter e dico ma chi è che ha scritto queste cose cioè ma si rende conto una persona che fa un commento di un certo genere che quello ecco adesso a prescindere dal fatto che quello è un essere umano quello lì no ma tu lo puoi trattare in quel modo farlo sentire in quel modo sparargli quegli insulti attribuirgli quelle cose orribili voglio sperare che tutte le persone che facciano queste siano come te posso dire nemiche della chiesa ate non lo so che cosa ma come si sente adesso a prescindere da da tante questioni io mi sentirei male insomma siccome io tutti quanti cioè pensiamo alla nostra alla nostra vita ma come come ci sentiamo quando ce ne dicono un sacca in asporta e a volte pure pesanti ci sentiamo bene se Gesù dice tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi fatelo anche voi a loro ma tu lo fai tu vorresti che ti trattassero in questo modo cioè non lo so sono anche segni un pochettino dei 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 tempi no cioè andiamo a fare discorsi retorici qui veramente proprio il un minimo di rispetto zero proprio eh capite se non si rispetta una persona che comunque come dire una autorità morale spirituale ma come pretendiamo che ci rispettiamo tra tra uguali tra persone simili cioè però a me quest'aria veramente cioè io per grazia di Dio eh cerco di respirare ci provo non so se ci riesco un po' d'aria divina insomma vivendo cercando di fare il possibile di vivere per vivere unito con Gesù ma certamente l'aria che esala da questi ambienti è proprio un'area pesante proprio proprio pesante ammorbante proprio cioè non si può vivere in mezzo a questo mare di fango continuo d'accordo in certi momenti ti prende perché tu vedi che ci possiamo fare ma quando poi leggo queste cose i mali dell'umana volontà ma te li vedi davanti agli occhi che cosa è questa? ma che è volontà di Dio questa qui? ma la gente che campa così che viene nella divina volontà ma che sa fa pure la comunione la domenica insomma va vatti a fare la comunione la domenica ma non lo so se è tanto caso andassi a fare la comunione la domenica ma come fai? sono peccati brutti questi qua sono peccati gravi cioè eh i peccati gravi non sono soltanto i peccati impuri eh a parte il fatto che molti oggi non manco ci credono che i peccati gravi sono i peccati impuri ma ecco non bisogna mica pensare però che i peccati gravi sono soltanto i peccati impuri perché Gesù ha detto che se a tuo fratello gli dici ti ciadiri sarai sottoposto al sinedrio se gli dici stupido no se ti addiri sarai sottoposto al giudizio se gli dici stupido sarai sottoposto al sinedrio e se gli dici pazzo cioè se gli fai un insulto pesante sarai sottoposto al fuoco della genna cioè te ne andrà all'inferno e se un insulto pesante lo fai a una persona che tra l'altro rappresenta nostro Signore Gesù Cristo come un ministro sacro adesso poi lasciamo perdere chi sta proprio al sommo della gerarchia adesso non è che lo dico perché io sono prete ma comunque capite questo avviene a tutti i livelli ci ho fatto un'omelia domenica scorsa d'accordo perché poi le cose che accadono nel piccolo accadono nel grande cioè i vescovi oggi quando parlano con i giovani preti dicono e dicono bene guarda che quando tu vai in parrocchia scordatelo dalla testa che tu sei il parroco perché lo dico io in parrocchia non ti si vira nessuno cioè tu arrivi e devi uno cercare di conquistarti un minimo di stima e di considerazione perché in quanto prete non ce l'hai è vero poi sono un po' l'ambiente in cui viviamo oggi figuriamoci quanto quanto alimenta questa cosa ma non pensare che qualcuno d'accordo e se non te la conquisti ma te la diranno zacca in asporta senza nessun riguardo come si diceva un tempo per l'abito che porti ricordiamo le frasi delle nostre nonne o bisnonne no per riguardo all'abito che porta caro curato mi sto zitta non esiste oggi questo non c'è non c'è più non c'è una società dove veramente si è smarrito anche un minimo di rispetto e come si fa? qui dobbiamo tutti quanti io penso che bisogna tutti quanti fermarci un pochino e pensare un pochino chi desidera specialmente vivere nella divina volontà deve acquisire uno stile un modo di essere di relazionarsi di parlare parte il fatto che di parlare prima di aprire bocca i padri del deserto dicevano che il nostro signore ci ha messo due porte davanti alla lingua i denti e le labbra perché una non era sufficiente però per 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 farti ricordare insomma che prima di aprire la bocca e dare fiato bisognerebbe pensare bene a quello che si dice ecco perché c'è un proverbio che dice che lo stupido dice quello che pensa il saggio pensa a quello che dice questo anche dovremmo dovremmo ricordarlo no? non dobbiamo fare attenzione non possiamo cioè vivere cioè vivere nella divina volontà significa prendere coscienza insomma di queste cose no? cioè non possiamo non possiamo tutto quello che ci passa per la testa vomito fuori sparo via imbratto difamo distorco capite? e stravolgo attribuisco intenzioni pessime a una persona perché? quando il principio generale di un incorretto agire morale quello a cui fa Gesù riferimento dicendo non giudicare è che tu quando una persona fa una cosa quello che gli devi concedere per giustizia non per carità è che faccia una cosa con rettitudine di intenzione che la faccia con buon fine con fine buon a meno che non abbia la certezza assoluta provata constatata dimostrabile che è il contrario non è che tu lo pensi a priori prima ancora che uno fa una cosa ha già pensato che lo sta a fare per chissà quale strano fine chi lo sa che c'ha a mente di 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 eversivo di strano di 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 questo modo di pensare è come dire sia lontano dai cuori dei credenti insomma ancora di più dai cuori dei dei credenti che amano il divino volere queste cose non sono secondo la volontà di Dio e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario insomma con gli esempi di Gesù della Madonna e con la Bibbia in mano ho sentito recentemente la storia una storia c'erano dei gruppi religiosi che incontrano in un contesto gruppi religiosi insomma alternativi e un ministro di Dio cominciano a insultarlo pubblicamente questo ministro di Dio senza scomporsi dice fratello mio te voglio tanto bene ma per caso nella Bibbia che tu nella traduzione tua c'è qualche passo dove c'è c'è scritto che il Signore autorizza di insultare un tuo simile anche se la pensa diversamente da te questo c'è rimasto ci è rimasto ha pensato e a modo suo si è scusato ma questa capite una risposta un pochino disarmante ma capite immaginiamo se un cattolico si mette a fare una cosa del genere uno viene e si scusa ma nel Vangelo trovi scritto da qualche parte che Gesù ti autorizza a comportarti in questo modo ci avessi pure tutte le ragioni di questo mondo ammesso che ce l'hai dove sta? poi abbiamo pure una qualche altra Bibbia un po' alternativa bene passiamo all'ultimo brano di oggi 30 novembre 1929 sempre volume 27 che dice così Adamo prima della colpa in ogni pensiero che faceva in ogni sguardo parola opera passo palpito dava a Dio il suo atto e Dio dava all'uomo il suo atto continuato sicché le condizioni di lui erano di sempre dare al suo creatore e di sempre ricevere c'era tale armonia tra creatore e creatura che non potevano stare entrambi se l'uno non dava e l'altro non riceveva per ridare di nuovo l'atto suo fosse pure un pensiero o uno sguardo perciò ogni pensiero dell'uomo cercava Dio e Dio correva per riempire il suo pensiero di grazia di santità di luce di vita di volontà divina si può dire che il più piccolo atto dell'uomo amava e riconosceva colui che gli aveva dato la vita e Dio riamava col contraccambiarlo col suo amore e col far crescere in ogni piccolo e grande atto dell'uomo la sua vita divina lui era incapace di ricevere tutta insieme la vita divina era troppo stretto e Dio gliela dava assorsi assorsi in ogni atto che faceva per amore suo prendendo di letto nell'andargli sempre per formare lui la sua vita divina quindi ogni pensiero e atto dell'uomo sboccava in Dio e Dio sboccava in lui questo era il vero ordine della creazione trovare nell'uomo in ogni atto suo e il suo creatore per potergli dare la sua luce e ciò che aveva stabilito di dargli la nostra divina volontà che stava in noi e in lui si faceva portatrice dell'uno e dell'altro e formando in lui il pieno giorno metteva in comune i beni dell'uno e dell'altro come erano felici le condizioni dell'uomo quando il nostro Fiat divino regnava in lui si può dire che cresceva sulle ginocchia nostre attaccato al nostro petto da dove attingeva la crescita e la sua formazione ecco perché voglio che nel mio volere ogni atto di creatura abbia il tuo ti amo per richiamare l'ordine tra creatore e creatura perché tu devi sapere che l'uomo col peccare non solo respinse il nostro Fiat ma respezzò l'amore verso colui che tanto lo aveva amato e si mise a distanza dal suo creatore e l'amore lontano non può formare vita perché il vero amore sente il bisogno di essere alimentato dell'amore di colui che ama e di stare talmente vicino che gli riesca impossibile separarsi sicché la vita dell'amore creato da noi nel creare l'uomo restò senza alimento e quasi morendo molto più che ogni atto umano che faceva senza la nostra divina volontà era una notte che formava nell'anima sua se pensava era notte che formava se guardava parlava e altro tutto era tenebre che formavano una notte oscura senza il mio fiat non ci può essere giorno né sole al più qualche piccola fiammella che stentatamente guida il passo o se sapessero che significa vivere senza il mio vero divino vivere senza il mio volere divino anche se non fossero cattivi e facessero qualche bene l'umana volontà è sempre notte per l'anima che la opprime la amareggia le fa sentire il peso della vita perciò si attenta non ti fa sfuggire nulla che non entri nel mio fiat il quale ti farà sentire il pieno giorno che ti restituirà l'ordine della creazione richiamerà l'armonia che metterà in vigore il dare continuo degli atti tuoi e il ricevere continuato del tuo creatore e abbracciando tutta l'umana famiglia potrà impetrare che ritorni l'ordine di come fu creato l'uomo che cessi la notte dell'umana volontà e sorga il pieno giorno della mia divina volontà anche questo è un brano stupendo bellissimo mostra come l'origine della creazione fosse un darsi reciproco interrotto e perpetuo di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio condizioni felici quelle primordiali e aggiunge Gesù che l'uscire dalla divina volontà non è stato soltanto respingere il fiat ma fu lo spezzare l'amore bruttissima questa immagine verso l'uomo che tanto l'aveva amato mettersi a distanza col suo creatore è una cosa proprio brutta questa brutta pensiamo a quanto è brutto quanto ci sentiamo male anche qui noi no chi di noi non ha mai vissuto nella propria vita un'esperienza di rifiuto di esclusione provare una simpatia verso qualcuno verso un'amicizia e cose di questo genere e ti sentivi rifiutato ti sentivi escluso ti sentivi emarginato quanto male si fanno i ragazzini e tutti siamo stati ragazzini e quindi è bene che ogni tanto ci ripensiamo per tutte le dinamiche perverse che nascono da questo gioco bisogno di sentirsi accolti bisogno di sentirsi amati e botte schiaffi in continuazione ridicolizzazioni estromissioni dai gruppi pensate a quante stupidaggini o quante cose gli esseri umani fin dall'adolescenza fanno per non incorrere nella cosa bruttissima dell'essere rifiutati prova a pensare tu che stai ascoltando queste povere parole che sta dicendo questo povero prete che prega sempre per me se ti ricordi se puoi come ti senti quando qualcuno ti rifiuta non ti vuole e te lo fa percepire questo come ti senti eppure noi noi abbiamo fatto questo noi perché in Adamo l'abbiamo fatto tutti nei confronti dell'altissimo se uno guarda le ore della passione come le troviamo scritte nei scritti di Luisa cioè vedere il disprezzo proprio il non ti voglio nei confronti di Gesù quando durante la lo vogliamo morto a tutti i costi proprio ho sete di sangue suo ma pensiamo come di nuovo ritorniamo al discorso di prima quando ho detto pensiamo a come si può sentire sto poro papa con tutto quel fango che gli gettano addosso come si sentiva Gesù l'umanità di Gesù come si sentiva noi abbiamo spezzato l'amore nei confronti del creatore abbiamo dato a Dio il dispiacere di sentirsi rifiutato da noi ripeto per favore per favore per favore proviamo a pensare come ci sentiamo quando ci sentiamo rifiutati o come ci siamo sentiti proviamo a entrare dentro noi stessi e a vedere quanto male che ci hanno fatto certi rifiuti quante ferite che ci hanno causato e forse abbiamo 70 anni e ancora ce le portiamo dietro eppure questo noi abbiamo fatto nei confronti del creatore e che lo abbiamo fatto ne è prova che questo è quello che ha vissuto Gesù durante la sua passione è terribile questa cosa allora cioè capite la follia allo stato cioè rifiutare la divina volontà e spezzare cioè dire non voglio essere amato da te vattene non ti voglio questa è la follia più grande che si possa fare l'uomo rimane da solo la spogliazione l'essere nudo di cui parla il libro della Genesi e che cosa succede? ecco comincia che ogni atto che fa produce tenebre produce notte notte oscura e produce morte torniamo agli esempi che stavo facendo prima tutto lo squallore che si vede adesso in giro tutta questa questa montagna di fango da cui siamo sommersi da tutte queste volontà umane impazzite d'accordo impazzite e Gesù dice senza il mio fit non ci può essere nessuno nel giorno al più qualche piccolo fiammifero dice se anche una persona non è completamente cattiva quindi e fa qualche cosa di buono ma l'umana volontà è sempre notte è sempre qualcosa che opprime che amareggia che fa sentire il peso della vita allora sempre le solite domande come ti senti tu? come mi sento io? mi sento bene? o mi sento oppresso? mi sento bene? o mi sento amareggiato? mi sento bene? sono felice? o sento il peso della vita? se la risposta è che mi sento oppresso amareggiato l'ho preso della vita il problema è che sto vivendo di volontà umana pure se vado a messa la domenica pure se vado a messa tutti i giorni pure se mi faccio la comune tutti i giorni pure se mi faccio il rosario tutti i giorni perché è una cosa io non potrei campare senza la messa tutti i giorni l'ho detto tante volte non potrei campare senza il rosario tutti i giorni ma so bene che questi sono mezzi non sono fini sono mezzi perché la vita divina possa abitare in me non sono gli unici ma sono quelli più importanti ma se io mi sento oppresso se io mi sento amareggiato se io sento il peso della vita la vita divina in me non ci sta perché chi vive nella divina volontà non si sente oppresso attenzione e non opprime il prossimo non lo opprime non lo opprime non si sente amareggiato e non lo amareggia del prossimo cioè noi dovremmo pensare qualche volta quanto è brutto far soffrire una persona è brutto è una cosa brutta se noi ci pensassimo un po' bene lo faremmo un pochino è brutto far sentire male una persona cioè nella divina volontà si acquisisse una tale raffinatezza di modi che si è attentissimi capite a quando minimamente anche capite si 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 possa mortificare l'altro lo si possa far sentire un imbarazzo lo si possa far sentire stupido umiliato mortificato questi sono modi divini e dobbiamo pensarci dobbiamo pensarci figlioli miei cari perché dobbiamo fare una scelta di campo se noi vogliamo essere produttori di tenebre e di notte o se vogliamo essere produttori di luce e di soli chi vive nella volontà è un piccolo sole e i suoi atti sono piccoli soli che si accendono in continuazione si accendono per gli uomini e si accendono per il cielo ininterrottamente questo dipende da noi però quindi si tenga sempre presente che a proposito per chiudere la catechesi di stasera il peccato originale è stato un atto di volontà la vita nella divina volontà comporta degli atti decisi di volontà orientati verso la luce e verso il bene se questi non si compiono o se non si fa seria attenzione siamo sempre al di qua sempre al di qua ancora non mettiamo e non muoviamo i passi in questo mondo di cielo dove tutto splende come la luce del sole bene appuntamento per chi vuole alla prossima settimana la mia benedizione sempre su di tutti a me maria grazie a tutti 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 grazie a tutti